Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video! Io sono Marta, la guardiana slash tecnica notturna, diurna, mattottina e poverdiana! Ciao sono io, la Casimira la mascotte! E ora parliamo di Credits 04! Era un vero fan e youtuber preferiti! E allora che si fa? E inviteremo un bel like ai fan! E state attenzione, no agli haters! Buuuu agli haters! Con un hashtag, pazzo dei ticonnad! Ora, cominciamo! Credits 04 era un vero youtuber che sa registrare quel video! Com'è? Sul cellulare? Sul computer? E... eccetera! Cosa c'ha un fazzoletto a mano a Credits 04? Un fazzoletto di Conad! Oh sì! Quella è la versione kawaii! Molto kawaii! fai! E... Ecco con... cose... beh! Parliamo ancora della storia! Un famoso youtuber! Abbiamo deciso di un nuovo canale Credi 04 A volte cambia Scriviamo Happy birthday pnaf Cambiamo anche l'immagine Si può registrare i video Si può mettere i video Che le piaccia Ma a volte Successivamente Si cancella tutto Il video Per sempre E ora non ti preoccupare Invece di Happy birthday pnaf Beh Non ti preoccupare Ora Si può Inserire Un nuovo canale Chiamato Credi 04 Beh Ci sono due canali Che è possibile E ora Non ti preoccupare E' tutto sotto controllo Ah Quindi si può dire Una cosa Quale Ci mettiamo tutte le animazioni Ci mettiamo anche Un poster Da solo E ora Che si fa Ma allora Vediamo che cosa c'è Ho disegnato Quel fanart Noi ne abbiamo disegnato Un fanart Da settimana Mi raccomando Spero che le piaccia Nei commenti Sotto la descrizione Speriamo che le piaccia Credi 04 E Se video Mi sono Mi piaciuto Un bel mi piace A Credi 04 Con il Pazzoletto A mano Connard Connard Scusate Non te l'avevo visto Ora si può diventare Un vero fan E Iscrivetevi sul canale Iscrivetevi sul canale Di Credi 04 E Scrivetevi al commento Sotto la descrizione Cliccate per Cappanellino E se dopo l'avevo scritto Quindi Se video Era opposto Ci si vede Al prossimo video Che Io E la mia mascotte E Il guardia Ciao ragazzi Ragazzi Arrivederci Ragazzi Ragazzi Ci vediamo Un altro episodio E ti amo Oh Sì Bella Questa Musica Wow Mi piace tanto Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ci vediamo Un altro episodio